Trattore in tangenziale, andiamo a comandare, scatto fatto con gli ocani, andiamo a comandare, chi c'ha parte del locale, andiamo a comandare, sconcio, acqua, minerali, andiamo a comandare. Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa, e ho la testa che gira come il kebab, spingo la musica dentro di là. Provazzi, ma che cazzo fai? Non so se so pazzo, o sono un genio, faccio i selfie mossi, a voi pequeño non mi fumo. C'è un po' calde, sono l'aggisterio, io non faccio brutto, ma ho fatto renta in tangenziale. Dai, 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 la zia, la zia Diana, dai. Dai, dai, la zia Diana, dai. Guarda qua, papà, guarda. Se viamo. Sai chi? 2013 intele. Beh, vabbè. Sì, sì. Sì, sì. Di nuovo, di nuovo! Dai, dai, le bayis, suon Pfavale! Vabbè, fecelli! Vсем adoptare faccio gli schifosi di cucinaio di cucinaio di cucinaio di cucinaio di cucinaio di Dove è Zia Enrico, dove è Zia Enrico? Ma aspetta, ora aspetta Lascia, lascia, lascia A Zia Enrico, a Zia Enrico Piano, 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 piano Cammina piano, cammina piano A Zia Enrico 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 Grazie a tutti. 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 Donne, ci siete?